Ciao qui è Gio di Soluzione Attrazione. Nel video di oggi rispondo a una delle vostre domande che ci avete inviato. La domanda è, abbracciare una ragazza ad una delle prime uscite ci può stare oppure è esagerato per le prime volte? Allora, io spero veramente che tu mi stia trollando con questa domanda che mi hai appena fatto, perché non può essere vero. Ecco, questo è quasi il duecentesimo video di risposta alle domande che ho creato, se non di più, e dopo tutte le risposte che vi ho dato mi chiedete ancora se è possibile abbracciare la ragazza ad una delle prime uscite. No, certo che è possibile, è possibilissimo, dovete farlo. O meglio, non dovete necessariamente abbracciarla, non importa che abbracciate la ragazza, ma dovete creare del contatto fisico, dovete creare della sessualità, dovete creare un'atmosfera uomo-donna, eccetera, eccetera, eccetera. Signore, siete lontani dalla soluzione, in questo momento anni luce, se voi solo pensate, una cosa del genere. O meglio, non è che siete lontani dalla soluzione, anni luce, siete lontani dal vedere la luce, anni luce, scusate il gioco di parole, ma è veramente così che sta la verità. Quindi, sì, tu puoi assolutamente abbracciare una ragazza al primissimo incontro, puoi anche abbracciarla durante il rimorchio, se è per questo. E assolutamente non è un qualcosa che va a essere troppo esagerato, che va a impedirti di ottenere risultati. Ed è esattamente il contrario, se tu rallenti quella che è l'escalation fisica, fino a farla arrivare alle calende greche, non c'era nulla con la ragazza, cioè lei ti metterà in zona amicizia. Quindi, mi sembra chiarissimo, dalla domanda che fai, che sia a livello di mentalità, sia a livello di conoscenza, anche teorica, non ci siamo proprio, nel senso che debbi aumentare quella che è la tua conoscenza teorica di queste dinamiche. Quindi ti consiglio di studiare un sacco questa roba e tieni presente che questo è un consiglio per te, solo per te che hai fatto questa domanda, perché sapete che io di solito vi consiglio tutto il contrario. Vi dico, avete studiato abbastanza, andate sul campo ad applicare. Però qui siamo evidentemente, di fronte a un caso, di una persona che è appena arrivata sul sito, non c'è altra spiegazione, perché altrimenti sul sito, sul canale YouTube, perché altrimenti non è inspiegabile come ancora ti fai una domanda di questo tipo, che è assolutamente sbagliata comunque. Non è sbagliata la domanda, ma è sbagliato il fatto che tu possa pensare che rallentare così tanto quella che è l'escalation fisica ti possa portare a qualche parte, perché è esattamente il contrario. Stop, non scappare subito. Primo, ricordati di iscriverti al canale. Secondo, vuoi vedere le tecniche di attrazione usate nel mondo reale? Infatti il primo passo per imparare a ottenere più successo con le donne che ti interessano è imparare come generare una fortissima attrazione in loro e ho creato un video gratuito dove ti spiego esattamente come farlo. In questo video ti mostrerò tre tecniche di attrazione che puoi imparare a usare subito e vari filmati di ragazze approcciate per la strada con cui utilizzo queste tecniche di attrazione con successo. Clicca il link in descrizione per accedere a questi video. Ciao da Joe di Seduzione Attrazione.